Ehi, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Altec23, la tecnologia smart di tutti i giorni. Oggi, insieme al nostro amico Homer Simpson, puntata dedicata ai più piccoli, con un gadget veramente simpatico, Instant Cam per bambini. Andiamo a scoprire insieme. Sigla! E allora, mentre il nostro Homer mangia la sua ciambella, quanti di voi hanno passato ore e ore alla ricerca di una macchina fotografica per i propri figli? Bene ragazzi, questa volta ho trovato quella perfetta, ovvero la Instant Cam della Barbie, prodotta da Lishani. Eccolo qua lo scatolo. Ovviamente un prodotto rivolto alle femminucce. Ma perché proprio su questa tipologia di macchina? Perché proprio questa? Per una sua funzionalità che mi ha fatto veramente sorridere. Lei è una macchina fotografica istantanea, ma non abbiamo bisogno di comprare delle cartucce, dei fogli fotografici o quant'altro. Lei funziona con dei rullini stile POS, ma vi dirò di più, vanno bene anche i rullini che inseriamo nei POS. Avete presente quando andate al supermercato, pagate con la carta e vi rilasciano lo scontrino del POS? Beh, possiamo inserire proprio un rullino di quello. Ovviamente le stampe sono in bianco e nero, ma molto particolari. E basterà aprire lo sportellino anteriore, dove troviamo il rullino del nostro POS. Ragazzi, veramente una figata assurda. Ovvio che potete comprare anche i rullini della Lishani, per quanto riguarda questo modello di macchina fotografica. Però, vi do una dritta. Con 6€ acquistate una marea di rullini per POS. Magari con 9€ acquistate due rullini della Lishani, quindi io non vi ho detto niente. Una rapida vista di quello che è lo scatolo. Sulla parte superiore troviamo delle varie foto con quella che è la descrizione della macchina, la sua funzionalità. Nella parte posteriore invece andiamo a vedere quello che è il contenuto dello scatolo con quello che andrà a fare questa nostra macchina fotografica. Apriamo lo scatolo. Cosa abbiamo? Una serie di stickers che serviranno per andare ad abbellire le nostre fotografie. Una serie di quadretti molto simpatici dove andare ad inserire le foto scattate. E' veramente ce ne sono tanti, eh ragazzi. Quindi i vostri piccoli si potranno sbizzarrire. Il cavetto per la ricarica Type-C, bella, ricarica veloce. Questi direi di metterli qua. I rullini, come vi dicevo, della Instant Cam. E poi, manolistica che non vi sto a far vedere perché voglio passare dritto al sodo. Parte posteriore abbiamo il display dove potrà andare a vedere l'inquadratura che si sta facendo, entrare nel menu. Sulla parte laterale abbiamo l'ingresso Type-C per la ricarica, qui l'ingresso per il laccetto, il tasto di scatto o di avvio e registrazione video. Al di sotto, uno sportellino dove andare a inserire una mini SD card per salvare le immagini o le registrazioni video. E anteriormente avviamo quello che è il microfono con speaker. E l'ottica, vi ricordo che è 10 megapixel, quindi neanche tanto male. Certamente non aspettatevi una macchina fotografica professionale, ragazzi. È pur sempre un gioco. E quindi, pigiando il tasto di accensione, lei si andrà ad accendere e ci ritroveremo nel menu. Scorrendo con le freccettine potremo andare a scorrere nel menu e pigiando poi il tasto dello scatto andremo nella modalità scelta. Abbiamo due modalità di scatto. La semplice è pigiando il tasto dello scatto e quindi andremo a fare una normalissima foto senza la stampa. E allora prendiamo il nostro modello, lo andiamo ad inquadrare e a scattare la nostra foto. In questa cosa avremmo scattato una semplicissima foto. Se invece volessimo andare a stampare e a fare uno scatto con stampa diretta, prenderemo sempre il nostro soggetto e andremo a pigiare il tasto in basso a destra con il simbolo della stampante. Guardate. Ed ecco qui il nostro scatto. Come vi dicevo sto utilizzando un rullino per post, quindi dietro avremo queste scritte, mentre i rullini originali sono bianchi dietro. In più, premendo il tasto M, quindi quello in alto a destra, potremo andare a scattare un bel selfie. Eccolo qua. Poi stampa veramente veloce, eh ragazzi? Ripingiando il tasto M passiamo nella modalità di scatto normale. Oppure potremo accedere al nostro menu, come vi dicevo in precedenza, magari selezionare la funzione video, andare a registrare un video e successivamente potremo andare tranquillamente a riguardarlo. Come avete potuto ben vedere, è una macchina veramente facile da usare, reattiva, veloce. che non ha bisogno di grossa manutenzione. Piccola nota di demerito per i più piccoli, che hanno le manine ancora piccole. Verrà difficile non mettere le dita davanti per andare a scattare. Se avessero fatto l'ottica centralmente, questo problema sicuramente non l'avremmo avuto. Quindi verrà magari più facile tenere la macchina così e andare a appiggiare il tasto per la stampa. Vi ricordo che il monitor posteriore non è touch ed è da 3.5 pollici. Con un ruolino di carta più o meno riusciamo a stampare 170 foto. Come ci viene poi riportato a dire lo scatolo, utilizza carta termica, quindi quella dei POS. Abbiamo la possibilità di registrare video in full HD, scattare foto fino a 10 megapixel, ricaricabile con appunto la porta Type-C. E poi la cosa bella, una volta stampata la foto, i nostri piccoli potranno andare a giocare, a divertirsi con tutta questa serie di gadget e di accessori. Quindi andare a inserire le foto all'interno, fare tutta una serie di esposizioni dei propri scatti. Veramente, veramente bello e consigliato. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Oggi qua c'è una guerra. Io e il buon Homer vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video e ciao bello!